Alessio Bifino, allenatore del Vasto Girardi, 1-1 in questo test amichevole con il Casar Bordino. Che cosa ha funzionato e che cosa no in questa partita? Innanzitutto sono partite dove cerchiamo di dare minutaggio a tutta la rosa. Non voglio assolutamente fare differenze fra primo e secondo tempo, nel senso che se facciamo un lavoro con 22-23 persone dobbiamo dare la possibilità a tutti fino a prima di ferragosto per valutare anche tanti ragazzi che sono aggregati con noi. Infatti anche a secondo tempo abbiamo cambiato i doppi terzini, abbiamo cambiato un po' tutti appunto per dare la possibilità di farsi vedere, anche perché qualcuno magari essendo aggregato mi deve far vedere qualcosa di buono se vuole rimanere con noi. Poi per quanto riguarda il primo tempo abbiamo fatto delle buone cose, è normale, dobbiamo sempre migliorare, essere più incisivi, l'unica cosa è il secondo tempo quando magari la partita ha preso un senso un po' più caratteriale, noi dobbiamo assolutamente sbattercene quasi le scatole della partita in senso caratteriale, ma dobbiamo continuare a giocare per poi avevamo quasi 10 under, 2005, 2005 sugli esterni, 2004, 2007 e mezzo, quindi è stato prima di ferragosto, ancora valutiamo tutti i giocatori nel complesso, tutto qua. A livello di intensità a questo punto della preparazione, però si è vista una squadra sempre sul pezzo e concentrata. Ma sai, mi interessa nel momento dare minutaggio, dare minutaggio perché abbiamo fatto 19 doppi, 19 allenamenti doppi dove i ragazzi ora dovranno un po' smaltire il lavoro, dato che il campionato non inizierà più il 27 ma inizia il 3, quindi è slittato, avremo modo di alleggere il lavoro e poi per partire in maniera decente durante il campionato. Ultima considerazione, sarete sicuramente spettatori interessati del turno preliminare tra Campobasso e Termoli, la vincente affronterà voi, quindi sono due squadre che terrete molto d'occhio. Ma è normale, prima giocheranno Campobasso e Termoli e noi affronteremo, penso, la vincente, quindi saremo attenti e osservatori a tutte le cose. E poi cerchiamo sempre di stare alti, a testa alta, in modo tale da affrontare tutti con il massimo rispetto, ma giocandocela alla pari. Ultimissima, che idea si è fatto del girone che andrete ad affrontare, che bene o male si sta delineando? Ma questa è una bella domanda, se lei è così informato da dirmi ecco il girone, sarei felicissimo lei me lo dicesse in anteprima, però fondamentalmente ecco in questo momento posso prendere, non lo so, le Laziali, le Campane, Marche, le Abruzzesi, cioè andremo a affrontare un campionato da 17-18 squadre e quindi vediamo un po', chi ci tocca ci tocca, per questo caratterialmente ecco deve essere una squadra che affrontiamo tutti con lo stesso spirito, con rispetto ma con dignità e determinazione, tutto va.